È scivolato su un masso bagnato mentre scendeva dal camion. L'incidente è accaduto poco prima delle 13.30 di oggi presso la Malgamoda sul Monte Grappa. Ferito un 42enne di Cassola che ha riportato un trauma alla spalla ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Montebelluna. Sul posto sono giunti anche i sanitari del suo medicrespano.